Il posizionamento non determina se ti entra la gente o non ti entra, non determina semplicemente questo, ti determina qual è la quota del mercato e quanto velocemente tu la prendi. Facciamo un esempio, il mercato cresce del 20% all'anno, apro il campo di paddle, io cresco del 20% all'anno, apro il campo di paddle o qualsiasi altro business con un buon posizionamento e faccio un buon marketing, io cresco il 45% all'anno, non più del 20%, crescere il 45% o del 30%, crescere il 30% all'anno significa crescere di più degli altri, cresco più del mercato, se io cresco più del mercato conquisto quota di mercato, quindi divento un player di riferimento, conquistare quota di mercato più alte mi consente di avere più richiesta rispetto alla mia offerta, prezzi più alti, margini migliori che mi consentono di prendere migliori dipendenti che offrono miglior servizio e fanno entrare ancora più gente perché posizionalmente confermato all'esperienza.